Ciao, siamo i Casanovas, un duo dalla Toscana, basso voce io, batteria lui. Potete ascoltare i nostri pezzi e trovare le date dei nostri concerti costantemente aggiornati al nostro space, che è www.myspace.com, the Casanovas Garage Hub Duo. Potete anche vedere il nostro live del Magnolia Milano Brucia al sito youknowthisband.com. Grazie, ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti